Buonasera, sono Maria Serena e sono la coordinatrice dello studio deontoiatrico Domusdent. Da oggi parte in questo canale televisivo Gocce di Salute, una rubrica dedicata alla salute della vostra bocca, con la partecipazione dei professionisti di Domusdent. Il progetto si articolerà in 50 puntate, durante le quali verranno fornite indicazioni sui più comuni quei siti che i pazienti ci pongono. Sarà possibile per voi ascoltatori inviare alla relazione alcune vostre domande, a cui campioni i nostri dontoiatri saranno ben lieti di dare risposta. Alla prossima puntata, buona giornata da Domusdent.